Benvenuti nel mondo degli orologi Cobalt. Cobalt è un marchio di orologi di lusso americano che ha fatto della resistenza e della funzionalità il suo marchio di fabbrica. Fondato nel 1998 da Michael Cobalt, un appassionato di orologi, il marchio Cobalt si concentra sulla produzione di orologi da polso di alta qualità, progettati per resistere alle condizioni estreme. Gli orologi Cobalt sono pensati per essere indossati da avventurieri, esploratori e appassionati di sport estremi, che richiedono un orologio resistente e affidabile. I modelli di orologi Cobalt sono caratterizzati da un design robusto e funzionale, con quadranti leggibili e funzioni utili come la bussola, il cronografo, il datario e l'indicatore di profondità. La gamma di orologi Cobalt comprende modelli da sub, da aviatore, da pilota e da campo, tutti realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile, titanio, oro e vetro zaffiro antigraffio. Uno dei modelli più famosi di Cobalt è il Surway Diver, un orologio subacqueo dotato di una cassa in titanio resistente all'acqua fino a 2000 metri di profondità. Questo orologio è stato utilizzato da alcuni dei migliori subacquei al mondo, tra cui il famoso esploratore subacqueo David Shaw. Ma non è solo la resistenza e la funzionalità che caratterizzano gli orologi Cobalt. Il marchio si distingue anche per la sua attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati nella produzione dei suoi orologi. Ogni orologio Cobalt è realizzato con cura e precisione, utilizzando solo i migliori materiali e le tecnologie più avanzate.